Il rock e il metal di solito vengono associati al satanismo e all'anticristianesimo. Questa è una storia che risale almeno alla fine degli anni 60. C'è chi la fa risalire addirittura al blues di Robert Johnson, parliamo di anni 30 e anni 40. Ad essere sincero, per parlare di appassionato di rock e di v-metal, nel 90% dei casi purtroppo è vero. Ma ci sono delle eccezioni che potrebbero sorprendervi. Qualcuno di voi potrebbe già sapere che ci sono alcuni gruppi cristiani che fanno rock o v-metal. Ma pochi sanno che tra i musicisti storici del rock e anche del v-metal ci sono o dei neoconvertiti, oppure musicisti che sono sempre stati credenti. Fra i pionieri del v-metal per esempio abbiamo Alice Cooper e Rob Alford, dei Judas Priest. Poi abbiamo avuto Nicole Beck Bryan, degli Iron Maiden, che si è sconvertito da pochi anni. E una cosa abbastanza sorprendente è che Tom Araya, degli Sveglier, si dichiara credente. Nonostante il fatto che i testi e le copertine dei suoi cd, dei suoi album, insomma, sono anticristiani o adottura satanici. Poi abbiamo John Petruccio e Gio Satriani, che sono dichiaratamente cattolici. Poi abbiamo il caso particolare di Dave Mustaine, dei Megadeth, ex Metallica, che era satanista dichiarato e praticante, che però adesso diventa un fanatico religioso di destra. In fondo la gente non cambia, ed è rimasta una persona, da cui quello che ne sappiamo è sempre stato arrogante, violento e scontroso. Sia quando era satanista era così, e sia adesso che fa un artico cristiano di destra. Negli anni Ottanta gli Striper erano il più famoso gruppo metal cristiano. Allora, il pastore Bob Beeman fonda un'associazione di metalli credenti, e vi lascio il link in descrizione del suo canale YouTube. Esiste una minoranza di gruppi rock e metal, che dagli anni Ottanta in poi, si dichiarano cristiani, apertamente. Anche nel mondo del black metal. Si chiama così il black metal, perché proprio per la posizione del cristianesimo, nero come il coro del diavolo. Fra questi gruppi però c'è una delle eccezioni particolari, come gli Antestor, che fanno un genere che fondamentalmente si ispira al black metal, oltre al doom, i quali hanno avuto problemi con le case discografiche, e hanno subito anche minacce di morte ripetute. Quelli erano gli anni, fra gli anni Ottanta e gli anni Novanta, in cui in Norvegia bruciavano le chiese. Cioè, erano gli anni dell'inner circle, anni durissimi, di chiararsi cristiani era un problema all'epoca. Un problema grave. Poi, oggi ci sono anche i festival rock e metal cristiani. Anni fa, fece parlare di sé un tale padre Cesare, frate Cesare, si faceva chiamare fratello metallo, che era un frate cappuccino che canta heavy metal. Poi abbiamo un altro caso particolare, no? Un altro sacerdote, giovane, anche suona la tastiera in un gruppo Power Progressive Metal, i Metatron. Sono quasi tutti giovanissimi. Lui canta anche in una specie di growl, che di solito è il canto tipico della musica metal estrema. Lui canta anche in un gruppo Power Progressive Metal, i Metatron.